Tutti ora si chiedono se ci sarà e soprattutto quanto sarà la penalizzazione per chi vorrà andare prima in pensione rispetto alla normativa attuale. Il sindacato chiede un anticipo senza penalizzazione per l'assegno previdenziale. Il governo sembra intenzionato a varare una flessibilità in uscita, ma con un taglio sulle pensioni. La proposta iniziale, targata a Baretta Damiano, evidenziava una sforbiciata del 2% per ogni anno di anticipo. Ora sembra farsi strada un'altra ipotesi. Una penalizzazione del 2% per chi esce un anno prima dal lavoro, del 5% per chi va via due anni prima e per chi anticipa la pensione di tre anni un taglio dell'8%. Sarebbe un'indicazione maggiormente sostenibile dei conti dello Stato, ma presumibilmente penalizzante per il cittadino che lascia il lavoro dopo decenni e diventa pensionato. Intanto scoppia un'altra polemica sull'unatantum data ad agosto a quei pensionati che percepiscono 3.500 e 3.000 euro l'ordi al mese per rispondere alle decisioni della Corte Costituzionale sugli arretrati da dare ai pensionati. Oltre alle cause già intraprese da migliaia di persone per avere l'intera somma e alla ribellione di chi si è visto negare l'unatantum perché sommando la propria pensione a quella di reversibilità del coniuge defunto superava la soglia dei 3.000 euro l'ordi, ora si scopre che numerosi pensionati hanno avuto ad agosto solo una parte dell'unatantum che gli spettava. Abbiamo ricevuto lamentele di alcuni nostri iscritti che hanno ricevuto nel mese di agosto soltanto un anticipo dell'unatantum riferito all'indicizzazione e soprattutto coloro che sono iscritti provenienti dai fondi speciali come parliamo di elettrici, autoferro-dramvieri, telefonici. Che cosa è successo? È successo che per un problema di carattere informatico l'Istituto ha applicato per queste categorie soltanto una tabella. Questa tabella ha dato la possibilità di dare soltanto una piccola parte del rimborso, dovrà rielaborare queste posizioni e non sappiamo se nel mese d'ottobre riceveranno la differenza dovuta.